La strada mai finita. Parliamo del tratto della nuova Piandassino che da Mocaiana condurrebbe a Bibio e Petralunga, primo tratto della direttrice Mocaiana-Montecorona. Un collegamento che consentirebbe all'arteria eugubina di sfociare sull'E45 per un progetto che ha seguito un iter lungo e tortuoso. I lavori iniziarono di fatti nel 2017 e vennero quasi subito interrotti per la cessata validità della valutazione di impatto ambientale. Tale contesto ha comportato ben tre anni di incontri e confronti tra le parti in causa fino alla scorsa estate quando l'assessore regionale Trasporti Melasecche ha annunciato lo sblocco del primo straggio di lavori. Ora però l'impresa Collini di Trento che si era aggiudicata alla gara di appalto ha di fatto deciso di rinunciare al cantiere complice il costante aumento dei prezzi delle materie prime con nuova gara d'appalto in vista per un'opera che avrebbe avuto significative ricadute sul piano economico occupazionale per l'intero territorio. Invece come annunciato anche dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati nel corso dell'ultimo consiglio comunale la sensazione è che si dovrà attendere ancora diverso tempo per ammodernare un'infrastruttura che possa consentire ad automobilisti e camionisti di usufruire di una rete stradale adeguata e funzionale. La questione della variante 219 per quel che concerne il tratto Moccaiana e Bivio di Pietralunga sta in qualche modo evolvendo in senso molto negativo verso addirittura una nuova gara d'appalto da parte di Anas e della stessa regione ho avuto sempre la disponibilità a chiarire e a manifestare lo stato dell'arte. sta di fatto che questa vicenda che si è andata complicando nel tempo ma che c'è un peccato originale sul quale non posso non ribadire quello che ho detto altre volte c'è stata sicuramente una pessima condotta dei soggetti responsabili di questa vicenda mi riferisco alla regione dell'Umbria la passata giunta regionale e non so se anche alla stessa Anas di allora perché questa faccenda della valutazione di impatto ambientale che è stata lasciata decadere dopo i cinque anni senza rinnovo preventivo è il vero peccato originale di tutta questa eh questione. Dopo una faticosa estenuante trattativa con l'impresa che naturalmente chiedeva adeguamenti a fronte dei due tre quattro anni che si erano venuti accumulando e poi subentrata anche la famosa questione dei prezzi che sono schizzati in alto quindi figuratevi se è aperto un ulteriore fronte e quindi eh le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Melasecche qualche giorno fa mi pare che denotino proprio questa situazione di di resa di presa d'atto che non ci sono le possibilità per procedere alla diciamo così a ai lavori eh attraverso l'impresa che era risultata vincitrice quindi ribadisco un fatto molto eh negativo e riconducibile a una gestione della vicenda di alcuni anni fa eh a dir poco negligente negligente